secondo me favore di sangue si chiama così no si quella del blight è fortissimo ah no scusami quella del nuovo killer perdonami ok scusami se ho capito dopo più che altro esteticamente mi piace un sacco però se non fai un killer inutile a che velocità va 4.6 o 4.4 spero 4.6 meno male buono però mi sa che ha il pallet pregata cosa fai adesso pregata ah il colpo base del killer ha un range lunghissimo ho capito bene e questa è una roba unica del killer mi stai dicendo quindi questa partita non è iniziata poi così male anzi io tornerò questa decisive decisive scontato ma vieni il perk segreto la quittata ma vieni mi sei bagato un cavaliere guarda guarda la roba guarda la guarda la spada ma non colpisce ma non colpisce? vabbè colpisce io cioè guarda è buggata la spada no vabbè io sto morendo ti giuro è buggata la spada è buggata la spada perché ha quittato quella lana no mia che ride ragazzo e loro vedono che è il braccio buggato ottimo hai scavato anche te parla di resta questo è un problema brava appena te non è un problema non è un problema ma sta la pubblico sul canale sta uscendo una partita epica sta uscendo una partita veramente epica secondo me ma sei serio? se si trolla trolla non mi sembra che hai troppo da trollare trolla ancora dai non hai troppo da trollare al massimo devi scavettare oh no tirla questa cosa fa? ma è seria dai vai a salvare salva salva non è un problema non ho capito che io sto giocando seriamente forse forse non gli è chiaro cioè boh io non capisco vedo uno che si impegna oh posso fare il mori ottimo tra l'altro il mori di sto killer è fighissimo magari senza le gomme davanti dove è l'altro? dove è andato? guarda la guardia buggata ma poi non ha senso guarda ah ok vabbè gli do la botola dai gli do la botola questo non si sta liberando gli do la botola non sono così stronzo anzi sono i survivor a essere tossici poi dicono che il killer è tossico porto un po' di spazio per la mappa così gli faccio vedere che bellezza che ci sono in giro ma ma no ma perché ha scavettato? gli volevo dar oh vabbè questa roba è epica io la pubblico sul canale ma gli volevo dar la botola vabbè vabbè ma perché ha scavettato? volevo dargli la botola ciao